Il rombo di tuono, gli applausi, la commozione. Il museo delle moto sognato da Luciano Battisti è diventato realtà. Sabato a Villa Fastigie è stato tagliato il nastro ad un luogo straordinario, il luogo del sogno di una vita. Quella di Luciano Battisti, ex titolare della Radiant, venuto a mancare lo scorso marzo. Battisti imprenditore illuminato con la moto nel sangue, quella che l'ha visto prima affermato pilota, poi collezionista senza eguali. Ora le sue 216 motostoriche vengono racchiusi in uno scrigno che apre la sua collezione privata a beneficio della collettività, rendendola un museo che Luciano aveva iniziato a costruire nell'attuale stabile di Via Divisione Legnano, ma che non è riuscito a completare. Un desiderio portato a termine dalla famiglia, dalla moglie Graziella al nipote Enrico, assieme a tanti sostenitori, a cominciare da Museo e Registro Storico Benelli. Speriamo solamente di aver soddisfatto il suo desiderio. Un'emozione unica e niente da dire, dai, speriamo veramente che abbiamo fatto il massimo, ecco, quello che potevamo fare. Famiglia commossa è sostenuta dagli applausi di ex piloti e autorità in una cerimonia di inaugurazione condotta da Paolo Conti, amico di Luciano e curatore del suo libro Un sogno, la vita. Il museo raccoglie le moto che sono state importanti per Luciano Battisti, ovvero la collezione completa delle Alpino, ma perché? Perché il papà era, una volta era il distributore, oggi è il concessionario, sarebbe stato il concessionario dell'Alpino, Alpino era un'azienda di Stradella, provincia di Pavia, il papà ne era il distributore per Pesaro e quindi Luciano ha voluto raccogliere tutte quelle che erano le moto che ha conosciuto da bambino ed erano appunto le moto che distribuiva il papà. Poi ci sono ovviamente le Benelli Moto B che sono le moto con cui Luciano è cresciuto motociclisticamente, questo al piano terreno. Poi invece al piano superiore, ma il piano superiore proprio perché sono in fondo le moto superiori, sono le moto da corsa che sono state le moto o di piloti pesaresi come quella di Eugenio Lazzarini o le moto con cui ha corso Luciano o hanno corso i suoi avversari dell'epoca e della sua attività agonistica. Quindi tu al piano superiore trovi per esempio una bella raccolta di Yamaha, moto importanti, moto blasonate. Moto da leggenda, moto da titoli mondiali, dalle Yamaha di Eddie Lawson, Cadalore Reed, alle Benelli di Carutas, Grassetti e Pasolini fino alle gemme della collezione delle Benelli di Arno Sarinen e Mike Elwood. Ad applaudire il museo tantissimi ex piloti, molti dei quali hanno voluto raggiungere Pesaro per l'occasione. Campanelli, Lazzarini, Pierpaolo Bianchi, Gallina, Mangione, Consalvi e Bonera, oltre alla presenza del presidente dell'automotoclub storico italiano Alberto Scuro. Sono felicissimo di essere venuto a questa inaugurazione perché conoscevo Luciano, era una persona fantastica che trasferiva emozioni e questa stessa emozione è riuscita a far sì che venga trasferita anche oggi con una visita ad un museo che è capace di narrare una serie di storie incredibili di campioni, di moto, di marche che hanno fatto realmente la storia del motorismo, in questo caso a due ruote. Ora la collezione diventerà un museo, non aperto in maniera permanente ma con un programma di visite ancora da costruire e calendarizzare. Questo è una collezione che Luciano ci ha messo una vita a crearla, parliamo di centinaia di motociclette con un valore inestimabile, alcuni pezzi unici a livello nazionale e internazionale che Luciano è riuscito a raccogliere, a tenere insieme e realizzare questo museo, un regalo per la città e non solo per tutto il territorio. Una persona che oggi sarebbe stata contenta di essere qui con noi a inaugurare questo spazio, purtroppo non ce l'ha fatta ma la famiglia e tutte le persone, i parenti ma anche gli amici si sono stretti tutti intorno a un tavolo e sono riusciti a realizzare questo che era appunto un sogno di Luciano Battisti. È un'altra perla che si aggiunge alla collana del nostro patrimonio motoristico, unitamente al Benelli e tante altre collezioni che sono sul territorio. Questo è veramente un grande regalo che Luciano Battisti e la famiglia hanno fatto a tutta la nostra collettività a livello nazionale perché una collezione come questa non è facile trovarla in giro per l'Italia.